Musica Prosegue l'apertura delle nuove stazioni della linea 5 della metropolitana milanese. Domani sarà la volta della fermata Cenisio che apre i battenti con 5 mesi di anticipo sul previsto. In totale sono 16 le stazioni operative su 19. A questo punto mancano solo 3 fermate al completamento di tutta l'opera. Monumentale Gerusalemme e Tre Torri, quest'ultima all'interno del nuovo quartiere City Life. Le ultime stazioni verranno aperte a ottobre. L'intera infrastruttura è lunga quasi 13 chilometri e collega Bignami, Parco Nord, allo stadio di San Siro. Quando saranno completate tutte le stazioni l'intero viaggio durerà mezz'ora. La Lilla è sempre più utilizzata, ormai sono poco meno di 100.000 i viaggiatori quotidiani e questa cifra è destinata a salire ulteriormente. Estremamente importanti gli intescambi con la linea 2 e le ferrovie dello Stato a Garibaldi, con la linea 1 a Piazzale Lotto e con le ferrovie in nord a Domodossola. Domani, in occasione dell'apertura della stazione Cenisio, è stata organizzata una festa alla piccola scuola di circo con laboratori per bambini e uno spettacolo alle ore 18. Anche in via Messina, dalle ore 16, giochi e intrattenimento per i più piccoli. Intanto il Comune di Milano ha incassato una buona notizia per la realizzazione della linea 4 del metro. Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso che era stato presentato dall'impresa Pizzarotti, che aveva perso la gara d'appalto per la costruzione dell'opera. Per i giudici sono infondate le motivazioni alla base del ricorso.